La seconda tappa dell'Abruzzo Pride sarà l'Aquila il 26 giugno. Dopo la prima edizione a Pescara sarà il capoluogo di regione ad ospitare la manifestazione. L'Aquila tra l'altro è il luogo in cui ha seporto uno dei pionieri del primo movimento omosessuale, URICS. Il coordinamento Abruzzo Pride, composto da associazioni presenti su tutto il territorio regionale, vuole creare anche quest'anno degli spazi dove le persone potranno liberamente adodeterminarsi e partecipare a iniziative socioculturali all'Aquila in Abruzzo, dedicate alla comunità LGBT e alle lotte contro le discriminazioni. Sarà riproposta una Pride Week che toccherà anche Pescara, Chieti e Teramo. Pride quest'anno si terrà all'Aquila e ne siamo veramente orgogliosi e orgogliosi. Il Pride d'Abruzzo, l'Abruzzo Pride, è alla sua seconda edizione. L'anno scorso si è tenuto a Pescara e quest'anno invece appunto con grande gioia, con grande onore lo faremo qui. Il Pride sarà il 26 giugno, naturalmente si svolgerà in forma statica e nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid e si svolgerà grazie ad una sinergia tra associazioni LGBT, ci sono tutte le associazioni LGBT della provincia dell'Aquila, tutte le associazioni di tutta la regione in realtà, quindi è una bellissima rete, una bellissima sinergia che prende il nome appunto di Abruzzo Pride e che mette insieme tutte quante le realtà, anche femministe, quindi transfemministe, d'Abruzzo. Sarà un orgoglio avere il Pride qui all'Aquila perché celebrerà anche il grande Carlain Rikulrix che è sepolto qui al cimitero monumentale dell'Aquila e che è il nonno dei diritti LGBT, uno dei grandi pionieri del movimento omosessuale e quindi lo faremo anche per lui. Le associazioni chiedono che l'Italia sia una nazione in cui ci siano leggi a tutela dei diritti civili, stanze che non appartengono solo al mondo LGBT, dicono gli organizzatori, ma tutti a tutti.